Con questo tutorial vediamo come poter svolgere esercizi di numeri interi con le potenze. Partiamo da questo esempio. Allora, qui ho un prodotto tra quantità che hanno la stessa base, allora posso sommare 2 con 3, ed ottengo meno 5 alla quinta e poi il resto lo ricopio. Fissiamo ora l'attenzione su quest'altra parte. Siccome che qui ho un segno meno e un segno meno, vado a sviluppare 2 alla seconda e 3 alla seconda. Qui all'interno ho una divisione, hanno la stessa base, 5 e 5, e vado a fare 6 meno 4 che è 2, e allora scrivo 5 alla seconda meno 30. Adesso eseguo questa divisione, vado a fare 5 meno 4 che è 1. Sommo, eseguo questi altri calcoli, 8 meno 4 meno 9 ed ottengo meno 5, quindi apro la tonda e scrivo meno 5 per, qui svolgo 5 alla seconda, 5 alla seconda è 25, 25 meno 30, ottengo meno 5. Ora svolgo questa potenza, ora svolgo questa potenza di potenza, 1 per 2 fa 2, ed ottengo meno 5 alla seconda. Svolgo questo prodotto, meno per meno è più, con il segno meno ottengo meno, e poi 5 per 5 che fa 25. Infine svolgo questa potenza, meno 5 alla seconda fa 25, meno 25, e 25 meno 25 è 0. Vediamo quest'altro esempio, fisso l'attenzione su questa parte. Allora ho meno 3 alla seconda diviso meno 3, meno diviso meno fa più. 3 alla seconda diviso 3 faccio 2 meno l'esponente 1, e quindi quello che ottengo è 3, tutto quanto alla terza. Vediamo ora quello che ho qui all'interno. Svolgo questa moltiplicazione, meno 3 per meno 2 fa più 6, p2 ottengo 8, meno 5, e vado a scrivere 3. Poi ho diviso, e vediamo qui quello che ho, un 3 alla seconda per meno 3. Allora, innanzitutto metto delle tonde, e questo segno meno lo metto qui di fronte, e quindi vado a mettere qui il meno, e poi 3 alla seconda per 3, vado a scrivere 3 alla terza. Adesso vado a... Adesso... 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 Adesso osservo che meno alla terza... Adesso osservo che più alla terza e più con il segno meno, e vado a scrivere meno, e poi 3 alla terza, per 3 diviso meno 3 alla terza. Quindi osservo che... Adesso osservo che 3, una volta è moltiplicato per meno 3 alla terza, una volta è diviso per meno 3 alla terza. Allora posso semplificare questo con questo, e quello che mi rimane è 3. Vediamo quest'altro esempio. Allora eseguo subito questa divisione. Meno 10 diviso meno 2, ottengo 5. Più 3 è 8, più 8 è 16, più 6 ottengo 22. Diviso... Vediamo quello che ho qui all'interno. Allora ho un 11, meno 4... Vediamo poi quello che ho qui all'interno. Allora, apro una tonda e scrivo 11, meno 4 per 2 e vado a scrivere meno 8, poi ho un 5 per meno 2, quindi più per meno che fa meno, e vado a scrivere meno 10 meno 4, poi meno, qui svolgo ed ottengo meno 5 più 4 che è meno 1, meno 1 alla seconda ed ottengo 1. Ora sommo questi numeri, ed ottengo meno 11 e poi meno 1. 22 diviso meno 11, allora qui è più, qui è meno, quindi certamente ottengo una quantità negativa, e 22 diviso 11 è 2, e poi meno 1. E meno 2 meno 1 ottengo meno 3. Vediamo quest'altro esempio. Allora, meno 3 più 1 fa meno 2 per 2 e vado a scrivere meno 4, poi ho un più 2 e adesso vediamo quello che ho all'interno di queste graffe. Allora, apro la quadra, 5, eseguo questi calcoli, 5 più 2 fa 7, meno 3 è 4, elevato alla seconda vado a scrivere più 16, poi ho un 2 più 4 che fa 6, poi ho un 2 più 4 che fa 6, 6 alla seconda vado a scrivere 36, con il segno meno scrivo meno 36, diviso meno 3. Poi ho un 5 meno 4 per 3, allora vado a scrivere meno 4 per 3 che fa meno 12, e 5 meno 12, e 5 meno 12 ottengo meno 7. Adesso, meno 4 più 2 posso scrivere direttamente meno 2, apro le graffe, e vediamo quello che ho qui all'interno. Allora, ho un meno 36 diviso meno 3, ho un meno 36 diviso meno 3, ho un meno 36 diviso meno 33, ed ottengo più 12, più 12, più 16, più 12 più 16. Allora, ho un meno 36 diviso meno 3, ed ottengo più 12, quindi 12 più 16 più 5, ottengo 33, e poi ho meno 7. 33 meno 7 è 26, e quindi vado a scrivere meno 2, meno 26, e meno 2 meno 26, ottengo meno 28. Vediamo quest'altro esempio, allora iniziamo da qui, e vediamo quello che posso fare. Allora, ho un 5 più 8, e posso scrivere direttamente 13, poi meno 2 per meno 3, e quindi ottengo più 6, ho un 12 diviso meno 4, qui è più, qui è meno, e quindi vado a scrivere meno, e 12 diviso 4, ottengo 3. Poi ho un meno 8 diviso 2, che ottengo meno 4, con un segno meno, e vado a scrivere più 4, e poi ho un più 6, e chiudo la quadra. vediamo qui quello che ho. Vado a fare 3 per meno 2, che fa meno 6, poi meno 6, meno 5, ottengo meno 11, meno 11 più 4, e vado a scrivere meno 7, e chiudo la graffa. Poi ho un 5 più 3, che fa 8, 8 meno 4 è 4, alla seconda, e vado a scrivere 16. Siccome che qui c'è un segno meno, scrivo meno 16. Adesso eseguo la somma qui all'interno, ed ottengo 26, poi ho meno 7, meno 16. 26 meno 7 fa 19, meno 16, e 19 meno 16, ottengo 3. Vediamo quest'altro esempio. 10 meno 24 più 8 fa meno 6, per 3, e vado a scrivere meno 18. poi vediamo che ho all'interno delle... poi vediamo quello che ho all'interno delle graffe. Il 14 lo ricopio, meno, apro la quadra, 6 alla seconda, vado a scrivere 36. Poi eseguo questi calcoli, ed ottengo qui all'interno 8, con il segno meno, vado a scrivere meno 8. poi ho un meno 4 alla seconda, ed ottengo più 16. Chiudo la quadra, e chiudo la graffa. Diviso, diviso, meno 5 per più 3, ottengo meno 15, e lo metto tra tonde, più 20. eseguo adesso questi calcoli. Ottengo 44, ottengo qui all'interno 44, con il segno meno, vado a scrivere meno 44, ed il resto lo vado a ricopiare. Adesso, adesso vado a fare 14 meno 44, che ottengo meno 3. adesso 14 meno 44, è pari a meno 30. Con il segno meno di fronte, vado a scrivere più 30, e quindi scrivo 18, più 30, diviso meno 15, più 20. Ora, 30 diviso meno 15, ho qui più, qui meno, quindi ottengo meno, e 30 diviso 15, è pari a 2. È pari a 2. Quindi scrivo, meno 18, meno 2, più 20. meno 18 meno 2, fa meno 20, più 20, ed ottengo 0. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che vado a fare è, meno 2 per meno 5, ed ottengo 10. Poi ho 15 meno 13, meno 10, ed ottengo meno 8, e quindi scrivo, meno 2 per meno 8. Poi ho, più per meno che è meno, e quindi vado a scrivere, meno 2, per, 16 meno 9 più 1, è pari a 8, e quindi scrivo, meno 2 per 8. Chiudo la quadra, e chiudo la graffa. Poi, poi ho un, poi ho questo prodotto, devo eseguire prima la potenza, meno 3 alla seconda, è più 9, più 9 per, meno 2, ed ottengo, meno 18. e poi ho un 2 alla terza, che vado a sviluppare, e quindi scrivo, più 8. Adesso, vado a fare, meno 2 per meno 8, che è, adesso, svolgo questo prodotto, e questo prodotto, ed ottengo, più 16, meno 16. Poi, meno 18 più 8, vado a scrivere direttamente, meno 10. Siccome che qui all'interno, ho più 16, e meno 16, vado a semplificare questo, con questo. adesso, 10 al, adesso, adesso sviluppo, meno 10 alla seconda, ed ottengo 100, diviso, qui quello che mi rimane, è 5 per 10, che fa 50, e quindi scrivo, 50, meno 10. 100 diviso 50, è pari a 2, meno 10, e 2 meno 10, è pari a meno 8. Vediamo quest'altro esempio. Allora, mi occupo inizialmente, di queste parentesi graffe. Allora, apro la graffa, meno, meno 7, vado a scrivere più 7. Poi ho, meno per meno, che è più per meno, e vado a scrivere meno 2. E chiudo la graffa. Poi, di nuovo, apro la graffa, meno 5 alla seconda, fa più 25, con un segno meno di fronte, vado a scrivere meno 25. poi ho un meno alla terza, che fa meno, con un altro segno meno di fronte, ed ottengo più, e 2 alla terza è pari a 8. Qui ho, meno, qui ho meno 5 alla seconda, che fa più 25, con un segno meno, e vado a scrivere meno 25. poi per, ho un meno alla terza, che è meno, con un altro segno meno, ed è più, e quindi qui non scrivo niente. E poi 2 alla terza è 8, tutto quanto diviso 5. Poi ho un meno 3 alla seconda, per meno 3, diventa un meno 3 alla terza, quindi scrivo meno, avrò tonda, meno 3 alla terza. Poi meno, meno 90 diviso meno 2, ed è più, e 90 diviso 2 è 45, e quindi scrivo, meno 45. Questo segno meno, è questo segno meno. Ora, 7, ora, 7 meno 2 è 5, e quindi vado a scrivere 5. Poi, vediamo quello che ho qui. Allora, al posto di fare 25 per 8, vado a fare 25 diviso 5, che è pari a 5, per 8 ottengo 40, con un segno meno, è meno 40. Quindi, ricopio questo segno meno, e poi vado a scrivere meno 40. Sviluppo, sviluppo poi questo meno 3 alla terza, che è pari a meno 27, con un segno meno, vado a scrivere più 27, meno 45, ed ottengo 5 più 40 più 27, meno 45. E, sommando questi numeri, e poi sommando questi numeri, si ottiene 27. Vediamo quest'altro esempio. Allora, apro la graffa, apro la quadra, ricopio il 2, meno 3 alla seconda è più 9, qui c'è un segno meno di fronte, e scrivo meno 9. Poi ho un 5 alla 0, che è pari a 1, e quindi scrivo più 1. Chiudo la quadra alla seconda. Adesso vediamo che ho all'interno di queste altre quadre. Ho meno 2 per meno 5, che è più 10. Con un segno meno di fronte, vado a scrivere meno 10, e poi più 7. Tutto quanto alla seconda, alla terza. E il 2 alla quinta, lo vado a ricopiare. Vediamo adesso quello che ho all'interno di queste altre quadre. Ho una divisione, e posso fare 5 meno 3 che è 2, e allora scrivo 2 più meno 13 alla seconda. Poi diviso, qui ho una potenza di potenza, e quindi mi rimane 2, e quindi vuol dire che devo fare meno 3 alla seconda, che è pari a 9. E meno 7 alla 0, lo vado a scrivere come meno 1. Ora, 2 più 1 fa 3, meno 9, ed ottengo meno 6, alla seconda è pari a 36. Quindi apro la graffa, e scrivo 36 diviso, meno 10 più 7 è pari a meno 3, alla seconda è pari a 9. Poi tutto quanto alla terza, diviso 2 alla quinta. Più, vediamo qui quello che ho all'interno. meno 13 alla seconda è 169, più 2, vado a scrivere 171. Poi diviso, 9 meno 1. 36 diviso 9 è 4. 36 diviso 9 è 4, e quindi vado a scrivere 4 alla terza, diviso 2 alla quinta. 171 diviso 9 è pari a 19, quindi scrivo più 19 meno 1. Adesso, questo 4 lo vado a scrivere come 2 alla seconda, così poi posso applicare le proprietà, così poi posso applicare le proprietà delle potenze. E scrivo 2 alla seconda, alla terza, diviso 2 alla quinta, e 19 meno 1, vado a scrivere 18. svolgo questa potenza di potenza, e quindi vado a scrivere 2 alla sesta, diviso 2 alla quinta, più 18. Ora, 6 meno 5 è 1, quindi quello che ottengo è 2, più 18, e 2 più 18 è pari a 20. Vediamo questo ultimo esempio. Allora, meno 3 per 2, ottengo meno 6, meno 2, e vado a scrivere meno 8 alla terza, diviso meno 2 alla settima. Poi, fissiamo l'attenzione su queste parentesi graffe. Siccome che qui è tutto quanto, siccome che qui è tutto quanto elevato alla 0, posso scrivere direttamente 1. Poi, poi, vediamo quello che ho qui. Allora, ho meno 2 alla terza per meno 3 alla terza, quindi posso fare meno 2 per meno 3, che fa più 6, e andare a scrivere 6 alla terza, quindi il meno, ossia questo meno lo vado a ricopiare, e scrivo 6 alla terza. Poi ho un meno 5 alla seconda per 2 alla terza, che posso andare a sviluppare, quindi meno 5, quindi 5 alla seconda, vado a scrivere 25 per meno 2 alla terza, che è pari a meno 8. Adesso qui voglio applicare le proprietà delle potenze, e questo 8 lo vado a scrivere come 2 alla terza, e quindi scrivo meno 2 alla terza alla terza, diviso meno 2 alla settima. Poi ho un più 1, 6 alla terza, 6 alla terza lo vado a sviluppare, ed ottengo 216, quindi con il segno meno ottengo meno 216. Meno 25 per meno 8 ottengo più 200. Adesso, prima di tutto qui, adesso fissiamo l'attenzione su questa divisione. Fissiamo ora l'attenzione su questa divisione. Ho una potenza di potenza e vado a scrivere meno 2 tutto quanto alla nona. Rimane meno, perché meno alla terza è sempre meno, e quindi ho un meno 2 alla nona diviso meno 2 alla settima. Sommando questi numeri si ottiene invece meno 15. Ora, 9 meno 7 è 2, e quindi scrivo meno 2 alla seconda meno 15. Meno 2 alla seconda è pari a più 4. Meno 2 alla seconda è pari a... Meno 2 alla seconda è pari a 4, meno 15. E 4 meno 15 è pari a meno 11. E con questo termino il tutorial su come poter svolgere espressioni di numeri interi con le potenze. con le potenze. Meno 2 alla seconda